Lo spettacolo teatrale dedicato ai siciliani emigrati a Los Angeles e in tutto il mondo. Siamo una realtà che promuove e sta unendo tutti i siciliani nel mondo a qualsiasi livello. Noi vogliamo costruire una nuova immagine della Sicilia affidandoci alla nostra storia. Terzo giorno di apertura del villaggio Italia, circa 11.000 gli ingrassi giornalieri. Un'occasione di viaggiare in Italia non allontanandosi troppo da Los Angeles, quindi i miei contatti, la comunità italiana, i tantissimi italoamericani e anche gli americani mi trasmettono un senso di gratitudine per questa grande opportunità. L'attrazione più anelata resta la visita sul nave Vespucci 7500, le persone che ogni giorno salgono a bordo. È una nave che vive, che fa sentire vivo il marinaio, gli uomini e le donne oggi che sono passate e continuano a passare. È parte del nostro DNA, della nostra identità. Questo è il Vespucci.